È un premio che rappresenta veramente Paolo perché è fatto di valori, perché accomuna il nome di Paolo ai giovani e al Fair Play, quindi due cose nelle quali Paolo credeva molto. Non poteva che essere dedicato a Paolo Rossi il premio speciale modello per i giovani della 25esima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini, riconoscimento che andrà a due grandi amici di Pablito, Marco Tardelli e Hans-Peter Müller. Due amici di Paolo e soprattutto due persone vere, due persone che anche loro incarnano quelli che sono i principi sani dello sport. Al loro fianco a ritirare premi anche altre leggende dello sport. Voglio ricordare in particolare Stefano Edberg, dopo tanti anni di ricerca siamo riusciti finalmente ad avere una sua adesione. Sinisa Mihailovic per quanto riguarda la categoria sport e salute per la sua storia. E poi abbiamo la straordinaria Katinka Ossu, la notatrice più grande nei misti. Poi abbiamo Pierluigi Collina, poi abbiamo Romano Battisti il canottiere e con luna rossa. Pierluigi Marzolati che è un po' l'icona insieme a Meneghin del basket italiano degli anni 70-80. E Eleonora Goldoni il calcio femminile. E poi sinceramente Lucia Blini per quello che riguarda il premio ancora intitolato a Franco Lauro che è per il giornalismo. L'edizione 2021 punta in alto sia in termini di emozioni che di qualità per festeggiare in modo speciale il 25ennale della manifestazione nata nel 1997 con l'obiettivo di celebrare i grandi valori dello sport. Questo è un anno particolare come ho detto, purtroppo un anno che ci ha costretti a combattere contro un nemico invisibile ma presente e qualcuno potrebbe pensare che non è l'anno giusto per celebrare, mentre invece in realtà i valori tipici del fair play quindi la capacità di rispettare gli altri, di rispettare le regole, saper anche rispettare un nemico invisibile come il Covid e prenderne le distanze per riuscire a batterlo e a vincere, rappresentano un po' i valori che vogliamo premiare e valorizzare premiando i grandi campioni che hanno raggiunto grandi risultati. Ad ospitare la cerimonia di gala nella suggestiva piazza del municipio il prossimo primo settembre, ancora una volta Castiglion Fiorentino. Castiglion Fiorentino ha dato ma soprattutto ha ricevuto in questo rapporto dare avere tra questa manifestazione e la nostra città e la promozione della nostra città.